Eccoci qui al punto, Hotele Friuli, questa volta conosciamo meglio il comune di San Pietro Natisone e per farlo è il primo cittadino Mariano Zufferli, benvenuto sindaco. Allora un comune che ha ben 22 o 24 frazioni. Sì, tra frazioni e località. Sì, quindi un'area abbastanza vasta che insomma, no? In ogni caso voi eravate nelle UTI o nella comunità montana? Come era l'organizzazione? Inizialmente noi eravamo nella comunità montana e poi le comunità montane sono state praticamente commissariate a seguire, dopo sono nate le UTI eccetera. E quindi noi abbiamo fatto anche delle proposte alla regione nel 2014 ancora prima dell'approvazione della legge 26 in maniera tale di riconoscere le nostre vallate. Dopodiché abbiamo fatto un percorso di resistenza come tantissimi altri comuni. Sì, adesso insomma la cosa sta cambiando. Avete cominciato un momentino a... avete un anno magari di prova. I tempi sono anche strettini perché noi entro giugno dobbiamo approvare lo statuto e quindi si ritorna a ricostruire la vecchia comunità montana a Torre Natisone che va praticamente fino a Magnano e Nibiera. Senti, in questi giorni qui c'è una polemica sulle poste, molti suoi colleghi si lamentano appunto del servizio che viene dato dalle poste italiane. Voi come siete messi in questo comune? Come Comune di San Pietro non possiamo assolutamente lamentarci. Però perché abbiamo la posta 6 giorni su 7 quindi il servizio c'è, quello mi preoccupa veramente i comuni piccoli perché perdono un riferimento. Ecco, l'organizzazione e le risorse. Personale mi pare che non avete tanto, no? Anche lei qualche volta si presterà anche prima persona, sicuramente. Sì, è vero. Ecco, no? Quindi c'è una doppia veste. Una doppia veste. Una doppia veste. Ecco, la questione economica, la situazione economica com'è a San Pietro? Perché è un comune diciamo così tra virgolette capofila, no? Ma sì, è un comune di fondo valle che fa veramente la capofila. E proprio quello, anche l'ottima intesa che si è costruita tra i comuni delle valli veramente fa crescere tutti quanti insieme. Quindi la situazione economica, abbiamo una zona industriale dove praticamente ci sono alcune attività e poi abbiamo puntato tanto anche sulla nuova associazione dei produttori locali per cercare veramente di incentivare anche i prodotti locali nostri. Ecco, poi una volta eravate l'avamposto per l'ex Yugoslavia e la Slovenia. Adesso mi pare che i rapporti sono ottimi. C'è una collaborazione veramente buona, no? Sì, effettivamente. Prima c'era il valico, adesso non essendo più il valico ha semplificato anche. I rapporti sono non buoni, dico ottimi. È proprio l'intenzione di continuare, crescere e lavorare assieme. E quindi anche in tema di viabilità tutto ok, tutto bene, insomma? Allora, è bene. O c'è qualcosa che va messo a punto? Ma noi abbiamo un punto cardine, il nodo al ponte San Quirino perché comunque corre una statale, soprattutto all'epoca era anche un punto nero dell'ANAS. È un ponte dove sia per l'ingresso e l'uscita del ponte è una curva a 90 gradi e ci sono tantissimi mezzi pesanti. Quindi c'è una certa pericolosità. Esattamente, infatti è un punto che stiamo lavorando. Ecco, quindi poi mi pare che avete messo in mano o stato permetto sulle scuole, che sono un punto anche di eccellenza, perché mi pare che ci sono tanti, tanti. Mi diceva prima il novecento quanti. Sì. Quindi un punto, ecco, sulle scuole e state intervenendo. Ma io credo veramente il lavoro che è stato fatto prima dalle precedenti amministrazioni e anche l'amministrazione che sto guidando io è quello veramente di investire sulle scuole. noi, un comune della nostra entità, avere due istituti comprensivi all'interno del comune di liceo sia psicopedagogico e anche linguistico, sempre avvallato dal convito nazionale perché fa riferimento, permette di avere un giro di novecento alunni al giorno. Ecco, oltre che avete anche una casa di riposo che è molto quotata, anche se siete a parlare molto bene e lì quanti, anche per autosufficienti? No, abbiamo 62 posti letti per non autosufficienti ed è veramente la ciliegina perché non è una casa di riposo ma è una famiglia, è una grande famiglia. Un punto di riferimento anche. È bello. Ecco, poi c'è l'associazionismo, lei mi parlava prima dell'associazione dei produttori, ma poi ci sono anche altri che danno luogo a degli eventi veramente eccezionali, per esempio il carnevale, siamo proprio in questa no? Sì, premetto che abbiamo fatto un grossissimo lavoro in questo, circa un annetto, che sia con la collaborazione e col sostegno del promotorismo FVG, quello veramente di mettere insieme le associazioni è di fare promozione del territorio, quindi cerchiamo di fare un prodotto unico di tutto quello che viene realizzato e viene proposto all'esterno e quindi stiamo lavorando in quel lato lì. Un'altra cosa fondamentale è che da qualche anno abbiamo preso in mano, ma soprattutto l'associazione Bancinari di San Pietro, con la collaborazione e il supporto anche del Comune, è quello di riportare e valorizzare il carnevale, noi lo chiamiamo PUS come nome, di riportare questo carnevale nelle Valle di Natisone come appuntamento fisso. Quest'anno abbiamo qualcosa di estremamente particolare perché abbiamo 22-23 gruppi, tra cui ci sono gruppi che arrivano da Teramo, dall'Abruzzo, arrivano dal Trentino, arrivano dal Veneto e oltre tutti i nostri gruppi il giorno, anzi colgo l'occasione anche di promuovere questa iniziativa che sarà il giorno 16 febbraio con inizio all'ora 14 nella via principale di San Pietro. Quindi è un evento nazionale a questo punto perché vengono da tutta Italia, quindi a che edizione abbiamo? Ma l'edizione, allora l'edizione è partita tantissimi anni fa ma con l'intento di fare una rotazione nei vari comuni e valorizzare i comuni e poi è partito e poi qualche comune ha avuto qualche difficoltà eccetera, si era interrotto questo circuito e adesso sono 4-5 anni che veramente a San Pietro abbiamo preso e abbiamo deciso che ogni anno verrà fatto a San Pietro. Quindi un appuntamento fisso e quindi potremmo approfittarne per venire a vedere questo Carnevale delle Valli. Carnevale delle Valli ma arricchito con gruppi, sono solamente gruppi, non ci sono carri, quindi sono gruppi e diciamo che viene arricchito da questi che arrivano dall'esterno. Ecco ma poi c'è gente anche che va a visitare le grotte e mi pare che siamo sull'ordine di 7-8 mila e quindi non è una cosa da poco insomma. Diciamo però io esco dal mio territorio, il comuno di Pulfero, alla grotta di San Giovanni dove c'è 7-8 mila visite all'anno e abbiamo anche una scoperta e anche un aumento di presenze per quanto riguarda San Leonardo la cascata di Cot che è una zona verso la zona di Altana, Jainic sotto Castelmonte. Ecco senta, mi pare che sono anche gruppi corali in zona e ho sentito dire anche che anche lì l'attività è abbastanza importante, cioè tiene vicino un po' le persone ma anche ne richiama. Ma i gruppi corali è un momento anche di aggregazione stare insieme e soprattutto ci sono gruppi che portano diciamo canzoni vecchie, quindi vogliono mantenere le tradizioni di una volta e questo veramente è un qualcosa che arricchisce e che mantiene ricca la nostra comunità. Ecco senta, nel suo programma elettorale qual è il punto di riferimento più che vorrebbe concludere, ma appena iniziato, ricordiamo che lei ha il secondo mandato. Il secondo mandato è l'ultimo. È l'ultimo, vabbè, ma comunque mancano ancora 4 anni, quindi ne ha delle strade da fare e quindi c'è un cosa da fare. Ecco, qual è il punto che proprio ci terrebbe molto? Ma, devo essere sincero, il programma era molto molto leggero, no? Perché prendere degli impegni e dopodiché non riuscire a mantenerli è sempre un qualcosa. Invece sono molto prudente su queste cose, cioè parto molto piano e dopo le cose si fanno oltre quelle previste, no? Ma soprattutto il mio impegno è quello veramente di continuare a collaborare e crescere tutti insieme, tutti insieme le valli della Tisone. Quindi il punto di stare e di lavorare è a questo punto anche condividere i servizi, condividere i servizi, ma io guardo l'ottica delle valli, non guardo l'ottica solo di San Piero. No, è una cosa poco, è un lavoro anche importante, no? Però mi pare che lì le tasse sono, diciamo così, a livello molto basso, no? Lo dica così, vediamo se qualcuno, qualche suo collega la copia. Sì, noi abbiamo un addizionale 0,2 e quell'addizionale è bassissima rispetto, ho visto l'elenco del Friuli Venezia Giulia dei Comuni, siamo molto molto, diciamo, ai primi posti per tasse non... e poi abbiamo la tasse, non l'abbiamo mai applicata, e soprattutto nelle zone di montagna abbiamo modificato il regolamento per quanto riguarda Limo, sulle stalle, depositi, quindi nessuno paga niente su queste, per cercare il mio incontro. Ecco, ci sono anche degli appartamenti, delle case, se qualcuno vuole trasferirsi, così, secondo lei? Perché c'è stato un po' un fuggifuggi generale, no? Negli anni passati in tutti i comuni, piccoli comuni, voi come siete per esempio? Adesso come abitanti mi pare che... Ma insomma, noi siamo in lieve, una flessione c'è che è generalizzata un po' dappertutto, però tutto sommato una flessione contenuta nei numeri. Quindi la cosa nostra, la nostra situazione è che noi avevamo questo vincolo militare, queste servitù, e chiaramente non potevano dare la possibilità, chi voleva anche fare un minimo ampliamento per esigenze veramente di vivere, ha dovuto abbandonare le valli e quindi hanno lasciato tantissime case, sono tantissime case vuote, abbandonate. Quindi c'è un altro problema perché se non c'è la manutenzione, questo abbandono, e dopo peggiorano le situazioni. Quindi diciamo che è un problema nuovo, però l'interesse vedo che c'è da parte e dal di fuori di acquistare alcuni immobili. Quindi c'è qualcuno che ha l'interesse a diventare residente, insomma? Beh, l'auspicio mio è quello, quello... Più vengono meglio è, insomma. Sì, perché veramente, anche perché a livello di montagna noi investiamo, la pulizia, l'ordine, investimenti li facciamo. Ecco, i rapporti con la regione mi dicevi che sono avviati, comunque ci state trattando su... Ma ci sono... ...che parlano successivamente di opere di viabilità, insomma. Sì, con la regione abbiamo attivato... Oppure anche il turismo, come accennava prima, no? No, no, io posso dire bene perché per quanto riguarda il turismo FWG, presente, attivo, ottima collaborazione, veramente la prospettiva è positiva. Con il discorso della viabilità abbiamo iniziato un discorso, un percorso, stiamo lavorando e quindi io mi auguro che a breve anche arriviamo a una conclusione. Bene, allora abbiamo visto che San Pietro di Tizone, diciamo così, possiamo manoverarlo nel paese, diciamo così, felice, abbastanza, insomma, con prudenza, ma comunque si vive bene, no? Sì, io veramente... Ecco, è orgoglioso di rappresentare la comunità. Perfetto, allora grazie al sindaco di San Pietro di Tizone, Mariano Zuffoli, per la sua partecipazione, naturalmente tornerà più avanti, magari quando avrà definito la questione del ponte San Quirino, magari, chissà, chissà se... Possiamo farli con l'assessore, magari con l'assessore presente. Perfetto, ottimo. Allora, naturalmente ringrazio ancora il sindaco, grazie a voi per il vostro seguito, naturalmente i messaggini mi arrivano, vi posso dire che continueremo ancora con qualche comune delle valli e poi ci sarà una sorpresa di un grosso personaggio. Bene, alla prossima.